Buonasera a tutti, io sono Marianna e questa è la sede centrale di Radio Gamma 5 dove questa sera i Samuels Hall andranno direttamente in trasmissione Notturno Metal con l'etro per l'ezco Ormai è troppo tardi per pensare a cosa dire Pietro con l'ansia da prestazione, Marco professional, Ale piuttosto sportivo E belli impegnato E ora rispondiamo sempre il rispondo di Lorenzo Mi sento una persona importante La prova Danacol Evitate la Danacol Come potete notare il gruppo si dimostra coeso anche nel decidere le canzoni Qual'è l'altra canzone che c'è la rendo? Drunker? Dopo? No Tears e Tecco No Tears è pesata E se volete darmi il disco con la canzone di metà intervista? Quella di influenze non c'è la canzone di metà intervista No una chiavetta USB Allora bene spesso Oh no C'è in mezzo tutti i CD che avevi portato non avevi niente Più grande perchè adesso con il PC registro l'intervista C'è una nuova motor cd di valentor ragazzi Ma se vai in macchina ci arriva il grosso alto Eh ma ciao Guarda il primo dei Slayer Ma non sai che scendono questa gran bella roba Che panico Ma in questo momento ci sono i Gans in grado Non c'è niente dei creator Che bello siete immersi in un mare di colori E di panico E di panico Pietro mi raccomando Ma ora questo è il primo che passa Facciamo il primo piano sul Pietro In panico Ok 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 Aspetta aspetta finisco di inquadrarvi Ciao Ciao Ciao